Poiché questa è un'occasione pubblica della nostra scuola e sono venute anche tante persone, diciamo che è opportuno che io ripeto alcuni ringraziamenti. Innanzitutto vorrei ringraziare i giardini Ravini, Luca e Chris Tambra che hanno messo a disposizione questa splendida struttura per la scuola e per questa occasione serale. Vorrei ringraziare il Circolo Salute che ha collaborato con l'organizzazione della scuola. Vorrei ringraziare anche la signora Emilia Bonocore che ha messo a disposizione il Residence Lundang per molti studenti anche della scuola e per tutta l'agenzia che ci riserva. Non ultimo, naturalmente ringrazio moltissimo il professor Alberto Oliverio che stasera terrà una lezione magistralis sul cervello e spazio. Lo ringrazio naturalmente per questo, lo ringrazio anche per un'altra ragione perché in qualche modo tiene a battesimo questa nuova edizione modificata della Scuola di Filosofia della Natura e della Tecnica. È il primo anno che ha questa denominazione, scuola organizzata da me e Alessandro De Cesaris insieme ad Elettra Carducci. Capitata spesso. Ieri sera ricordavamo che il fatto di sbagliare il suo cognome è una prassi. È una prassi pubblicatoria per questa scuola. Si è sforzata. Abbiamo tributato. Carletti. Abbiamo tributato anche in questa occasione un errore alla gentilissima Elettra Carletti. Allora dicevo, la scuola è organizzata da quello che è il laboratorio di filosofia e antropologia della Tecnica del Dipartimento di Studi Unistici di Napoli, il laboratorio che si chiama Canet. E dicevo, il fatto che stasera il professor Corrile ottenga la lezione magistrale per la prima edizione della scuola è per noi estremamente significativo perché la linea di ricerca del nostro laboratorio è una linea di ricerca che vuole sposare la tradizione filosofica anche in antropologia, di antropologia filosofica, la tradizione di filosofia della tecnica vuole sposarla a discipline per noi assolutamente centrali e fondamentali per il nostro discorso, quale la neurologia, l'etologia, l'antropologia scientifica e diciamo tutte discipline rispetto alle quali la ricerca e il lavoro del professor Rivelio sono stati punti di riferimento assolutamente centrali nella panoramera, non solo italiano. Il professor Rivelio è medico e chirurgo di formazione, ha lavorato con Daniel Prove, premio nome tra la medicina del 57 se non ricordo male, è stato presidente di un numero innumerabile di istituti e società, ricordo solamente la società italiana di etologia e l'istituto italiano di antropologia ma è stato anche direttore dell'istituto di neuroetica e ripeto tanti altri che non potrei assolutamente ricordare se non esaurendo tutto il tempo che abbiamo, le sue ricerche si sono incentrate su varie tematiche, per esempio sugli psicofarmaci, sulla memoria, sul spazio del cervello naturalmente, ha lavorato in molti luoghi del mondo, ricordo solo gli Stati Uniti e Stockholm, tra le sue innumerevoli pubblicazioni c'è una che ho già ricordato oggi, Immaginazione e memoria, del 2013, ma possiamo ricordare, e anche qui ci rimediamo a due spizzichi, la geografia della mente, edito da Cortina nel 2008, e lo spazio e il tempo, la terza, c'è anche un cervello, un po' là di Borghieri, nel 2011, ma insomma davvero sono tantissime, per cui è molto molto gradita la sua presenza con noi e vi do la parola. Grazie, grazie molto, grazie per l'invito e spero di non deludervi, perché i dati che insomma, il discorso che farò è più che altro in ambito neuroscientifico, sia pure attenuato, spero di essere compreso da tutti, e come diceva la signora quando ci ha portato in giro a vedere i giardini, se c'è qualcosa di non chiaro, mi potete interrompere benissimo, non perdere il filo del discorso. Allora, grazie ancora per l'invito e per il discorso che c'è stato prima, che è una lezione che c'è stata prima, che in qualche modo ha aperto la strada a quello che dirò, e come non iniziare appunto da una posizione kantiana, visto che parliamo di un spazio come condizione soggettiva, questa è la quanto sosteneva Kant, lo spazio esiste di per se stesso, o esiste in quanto ci siamo noi, è riformulato in ambito neuroscientifico, è il nostro cervello che ci dà contezza, diciamo, dello spazio in cui ci muoviamo, dei rapporti tra gli oggetti, noi e l'esterno, le cose tra di loro e via dicendo. Allora, in gran parte, partendo dalla lontana, ecco, potrei parlare del fatto che il nostro cervello è prefigurato per una serie di funzioni, ma alcune si sono stabilite utilizzando delle strutture che non erano fatte per quello. Allora, partiamo con una serie, ad esempio, di riflessi, un bambino piccolo ha dei riflessi neonati, ha dei riflessi di grasping, di prensione e così via, utili alla sopravvivenza. Poi questi riflessi si trasformano a mani in attività motorie, non c'entra molto con lo spazio e il tempo, però questi tipi di funzioni sono legati al fatto che il nostro cervello ha delle aree che in qualche modo hanno una loro specificità. Lo sappiamo quando qualcuna di queste aree viene danneggiata e, non so, per esempio, alcuni dei centri del linguaggio, come l'area di Broca, che qui li vedete più o meno in arancione, e che comportano delle forme di affasia. Insomma, il linguaggio è così importante per la nostra specie, probabilmente l'unica specie che ha una capacità linguistica quale abbiamo noi esseri umani, che ha delle strutture, non soltanto corticali, ma anche sottoparticali, che ci portano a parlare ed a intendere il linguaggio. Però c'è anche da dire che questa strutturazione del cervello la ritroviamo presente in fossili di centinaia di migliaia di anni fa, non sappiamo se loro parlassero, però avevano un cervello che avrebbe consentito una qualche forma di linguaggio. Il linguaggio non lascia tracce, insomma, quindi è difficile dirlo. Invece, altre funzioni, come per esempio la scrittura, e qui andiamo in qualche modo verso la specialità. La scrittura è qualcosa di molto recente per la nostra specie, 6.000 anni, 7.000 anni da quando abbiamo impresso, hanno impresso i primi segni nelle tavorette d'Argilla. Quindi, in questi tempi, non c'è spazio per quei fattori evolutivi di cui abbiamo parlato prima, cioè per trasformare il cervello in dando delle strutture che ci consentano di scrivere, mentre abbiamo delle strutture che ci consentono di parlare e di intendere il linguaggio. E che cosa abbiamo fatto? Un segno di plasticità enorme. La corteccia parietale, che è una corteccia che in gran parte è legata alla spazialità, a denotare l'alto, il basso, la destra, la sinistra e così via, viene utilizzato da tutti noi, generazione dopo generazione, per imparare a scrivere e praticare la scrittura. Perché la scrittura è essenzialmente un fatto spaziale, inizialmente, se non altro, quando si facevano le aste, i bambini devono fare le aste in verticale e così via, ma qualsiasi lettere ha una sua spazialità. E questa viene assicurata appunto dalla corteccia parietale. Quindi, diciamo abbastanza di recente, abbiamo fatto un uso di forma del cervello e anche oggi facciamo degli usi di formi del cervello. Lo utilizziamo per cose per cui probabilmente non sarebbe fatto, tipo digitare rapidamente, come fanno tutti i ragazzini, su un smartphone o su una tavoletta, eccetera. Allora, per poter scrivere, noi dobbiamo, ecco, in qualche modo, bloccare una capacità del nostro cervello, che è quella di riconoscere i volti umani sia in forma diretta, sia in forma speculare. Se vi guardate allo specchio, ovviamente vi riconoscete, ma se io guardo una qualsiasi immagine di voi rovesciata, la riconosco comunque. Allora, un bambino piccolo, quando impara a scrivere, deve bloccare questa sua capacità. Inizialmente la maggior parte dei bambini scrive in quel modo, in modo rovesciato, dal basso verso l'alto, oppure da destra verso sinistra, cosa che appunto veniva fatto in molti documenti dell'antichità. Quindi questo è un altro aspetto che ci indica che una capacità in qualche modo richiede anche l'inibizione di alcuni aspetti di questa funzione. lasciamo perdere. Ecco, questi sono per esempio esempi dell'antichità, in cui per esempio nei geroglifici esiste quello che si chiama l'inversione completa, nei palindromi che qua vedete, tu sei nostro padre, questo è un legito greco-romano, si legge da sinistra verso destra, ma lo si legge anche da destra verso sinistra. Palindromi semplici tipo Roma e Amoro, oppure questo francese che può essere letto nei due sensi, sono un'indicazione di una specularità della nostra funzione spaziale. Nei bambini sono particolarmente forti, come vi dicevo, e i bambini anche hanno la capacità di parlare in vertetto le parole. Poi mentre l'abbiamo avuta quasi tutti, chi più chi meno, poi man mano viene perduta. Anche se ho conosciuto delle persone che potevano scrivere con la destra da sinistra verso destra e in simultaneo con la sinistra da sinistra verso destra. Posso dire una cosa, professore? Io riesco a parlare al contrario, senza leggere. Ha a che fare con questo tipo di funzione? No, ha a che fare con una plasticità infantile, diciamo così, cioè ha conservato una delle caratteristiche che sono più frequenti nell'infanzia. Non lo inibite insomma? Non lo inibite, ma si inibisce spontaneamente in genere perché l'uso della lingua e della lettura ci impone di utilizzare questi mezzi nel modo, in virgolette, giusto. In alcuni permane. Ok, va bene, grazie. Prego. Allora, lascerei perdere questo. Un altro aspetto che dobbiamo considerare in rapporto alla spaziale, quindi abbiamo un cervello che è architettato in modo, e lo vedremo più nel dettaglio, da avere dei punti di riferimento spaziali. E la scrittura è uno di questi, diciamo, utilizzare la corteccia parietale, la corteccia della spazialità per scrivere. Allora, anche la visione è uno degli aspetti che noi dobbiamo considerare. E la visione non è qualche cosa di ingenuo, nel senso che noi, in qualche modo, dobbiamo, facciamo capo alle caratteristiche dell'occhio, che sono abbastanza complesse, alle caratteristiche della corteccia visiva, questa corteccia qui, quella occipitale, e a una serie di processi mentali che man mano ci hanno portato a riconoscere alcuni aspetti spaziali. Per esempio, in questa immagine, voi vedete una prospettiva, e tutti noi grossomodo la riconosciamo, se no avreste dei problemi, diciamo, se non vedeste questa immagine in termini prospettici, o questa scala chiocciola, e così via. Quindi, per noi è immediato trasferire queste immagini in concetti spaziali. Allora, questo deriva in parte da come sono fatti gli occhi, dal fatto che l'occhio di destra e l'occhio di sinistra proiettano in buona parte qua a destra, l'occhio di sinistra, in buona parte qui a sinistra, l'occhio di destra, però ci sono delle vie crociate che proiettano in punti simili, confinanti della corteccia. Per cui io ho un senso della profondità che perdo se guardo soltanto con un occhio, ma se faccio il giochetto che abbiamo fatto tutti da bambini, teniamo il dito così, ne vediamo una faccia o l'altra, una faccia o l'altra, il dito sembra spostarsi. Ma questo deriva appunto da come sono fatte le vie visive. Quindi, questo è un determinante di come noi percepiamo in maniera tridimensionale. Ma lascerei perdere questi aspetti della plasticità corticale. Ecco, gli aspetti però interessanti derivano dal fatto che in alcuni casi ormai con le capacità della neurochirurgia miniaturizzata è possibile impiantare degli elettrodi, ad esempio in persone che non sentono. Quindi impiantare tanti elettrodi nel nervo acustico di Tivo e mettere un piccolo rilevatore di suoni, un alto parlantino che attraverso un mini circuito computerizzato trasforma le onde sonore in suoni significativi. Allora, se uno è sordo da molto tempo, dalla nascita, non è che sente dei suoni. Deve fare un suo percorso per differenziare man mano i suoni che sta ascoltando. Deve imparare a differenziare. E così le persone che vengono impiantate in minor numero, perché quello delle protesi uditive ormai per impianto ha un numero decisamente elevato di casi, quello delle protesi visive è più complesso e a seconda del numero di elettrodi io posso, impiantati su un nervo ottico, io posso avere una persona che man mano ha una visione sempre più regolare, sempre più pixelata, come in questo caso. Ha pochi elettrodi, vedo così, chiaro e scuro, quindi nei confronti di un voltio vedrei lo scuro degli occhi, forse delle labbra, forse dei capelli se sono scuri, impianto più elettrodi e man mano ha una capacità di risoluzione maggiore. Anche in questo caso, se io faccio questo tipo di impianto in persone, c'è che dalla nascita per motivi oculari devono imparare a vedere, quindi devono imparare a riconoscere il primo piano, chiaro dallo scuro e così via. Quindi non è che la visione sia ingenua, in qualche modo dipende da forme di esperienze di apprendimento. Anche un bambino neanche neonato, man mano impara a riconoscere il volto umano sulla base di alcuni indizi. Prima, essenziali, due cerchietti, un naso e una bocca, però disposti nella giusta maniera, non possono essere due cerchietti, un naso così e una bocca colà, e poi questa conformazione, questa gestalt, per utilizzare un termine psicologico, lo portano a mano a riconoscere sempre di più i tratti del volto e riconoscere il volto della mamma, il volto delle persone che gli stanno vicino, eccetera. Allora, questo è un aspetto che in qualche modo si incrocia con la percezione. La nostra visione, ancora una volta, non è ingenua e questo lo sapevano dai tempi degli antichi greci, degli architetti, i quali costruivano ad esempio il partenone sulla base di regole che consentivano di annullare alcuni aspetti percettivi che avrebbero portato a vedere il partenone in quel modo o in questo modo, anziché come lo vediamo in A. E quindi dovevano in qualche modo fare pendere, scusate il termine, le colonne un pochettino in questo senso, rastremarle e rigonfiarle al centro, con alcuni di questi indizi, per noi il partenone è un esempio di immagine classica, insomma, di bellezza classica dal punto di vista spaziale, però perché lo sia c'è bisogno di introdurre alcune modifiche. Quindi anche in questo caso noi percepiremmo il partenone in modo difforme se Fidia e i suoi colleghi di un tempo non avessero operato per farcelo percepire come normalmente lo percepiamo. So se è chiaro. E' verissimo. Allora, ma su questo ci sono tanti esempi di psicologia della percezione, non mi soffermo, ma percepire lo spazio è qualche cosa che a vedere, ovviamente con l'arte, e anche a vedere con alcune regole, i pittori lo sanno bene. Per esempio, in questo caso, un'immagine tratta da Kandinsky, lui dice che il colore caldo si muove verso lo spettatore, il colore freddo se ne allontana. Quindi, se io voglio dare una percezione di questo dipinto, posso mettere i calori caldi che mi danno l'idea del primo piano, i colori freddi che mi danno l'idea di piani più lontani. In realtà, alcune di queste regole sono regole culturali. E vi faccio vedere quest'immagine. Noi, nell'immagine a destra, abbiamo un'immediata percezione di chi è in primo piano e del susseguirsi delle file. Questo non era così nell'antico Egitto. Nell'antico Egitto la raffigurazione era questa. E questa era la fila in primo piano, questa era la fila in secondo piano, questo era quello che era davanti e questo era quello che era indietro. Io non so come percepissero veramente queste raffigurazioni nell'antico Egitto, però indubbiamente ci sono alcuni canoni culturali che ci portano a attribuire delle caratteristiche alla nostra rappresentazione spaziale. Per noi questa è la rappresentazione spaziale. E qualsiasi bambino che impari a disegnare ad un certo punto sa che le figure in primo piano devono essere più grandi, quelle in secondo piano devono essere più piccole, a meno che non rappresenti una realtà che risponda ad altre regole. Allora, in qualche modo le illusioni ottiche ci parlano di questa difficoltà di percepire alcuni percetti nel modo giusto. Vedete, queste sono due illusioni ottiche che noi percepiamo ogni volta che le guardiamo, quel tempio che deriva da una semplice rappresentazione che si chiama la forchetta del diavolo, noi la vediamo e ci rendiamo conto che è impossibile che ci sia una colonna in mezzo. Eppure, quando cerchiamo di risolvere il problema o quando lo rivediamo un'altra volta, cadiamo sempre nella stessa trappola. In questo caso l'esperienza non ci aiuta, non soltanto, ma se vi dico immaginatevi quel tempio con l'immaginazione, così come dipinto, così come disegnato lì, la cosa è pressoché impossibile. Immaginare è estremamente difficile perché alcune regole sono ormai scritte nella nostra mente, mentre cadere in questa o in altre illusioni, come in questa guida d'elefante, che è una cosa classica, insomma, anche in questo caso la zampa in più resta lì. Ed è però, chiudendo gli occhi e immaginarlo, è di un'estrema difficoltà. Quindi, ci sono tutta una serie di studi che sono stati fatti, alcuni riguardano anche dei danni della corteccia, per esempio, questa sindrome di negligenza spaziale unilaterale, vuol dire che se ci sono delle lesioni della corteccia destra, che in gran parte vede questa parte dello spazio, mentre la mia corteccia sinistra vede questa parte, allora se la mia corteccia è lesa, io ho un neglect, cioè ignoro tutto ciò che è a sinistra del mio campo visivo. Questa piazza, per esempio, così come viene rappresentata, queste sono immagini tratte da Oliver Sacks, che insomma l'ha descritta per bene, ma ci sono anche molti studiosi italiani che hanno studiato il neglect. Ecco, nel vedere questa immagine, nella realtà, una persona ne vede soltanto una parte, ma anche se io fossi affetto da un neglect e guardassi voi, ecco, escluderei questa parte della sala e vedrei prevalentemente questa. Quindi, in qualche modo, i due occhi e le due cortecce mi consentono una rappresentazione piena della realtà. Questo dal punto di vista... Sì? Voglio chiedersi a questo riguardo, invece che lesioni, potrebbero esserci preferenze, nel senso che tendiamo ad avere una percezione migliore su un lato piuttosto che sull'altro, se uno scritto, immediatamente l'emisfero sinistro ha un accesso migliore a tutto ciò che è nella parte destra di uno schermo, per esempio. Se invece è un volto, è l'emisfero destro che reagisce per primo. Poi, siccome abbiamo un'unione tra i due emisferi attraverso il corpo calloso, naturalmente il destro parla al sinistro e il sinistro parla al destro. Però, se io mostro rapidamente un'immagine, mettiamo maschile o femminile, il mio emisfero destro per primo reagisce a questo tipo di immagine. E se mostro invece una scritta, il mio emisfero sinistro per primo reagisce. Poi la trasferisce al destro, naturalmente. Non se tutto funziona. Allora, in gran parte oggi noi parliamo di condizione spaziale, per indicare il fatto che noi abbiamo una serie di fattori che vengono integrati tra di loro per darci una rappresentazione dello spazio. E una buona parte dei nostri compiti cognitivi, diciamo, sono legati al fatto che noi viviamo in un ambiente che ha delle connotazioni spaziali. E per fare questo, torniamo al nostro cervello. Il nostro cervello ha due flussi di informazione. Un flusso che è quello dorsale e un flusso che è quello ventrale, quello blu e quello rosso. Il flusso dorsale, in gran parte, è legato alla spazialità. Dove qualche cosa? Per esempio, se mi interrogo dove sono queste luci, in gran parte è il flusso dorsale che viene attivato. Mentre il flusso ventrale risponde a che cos'è? In gran parte è legato al fatto che nella nostra corteccia abbiamo aree che reagiscono ad una serie di stimoli. Per esempio reagiscono ai volti, abbiamo un'area attenta al riconoscimento dei volti, abbiamo un'area che porta al riconoscimento degli oggetti, in gran parte perché gli oggetti non li manipoliamo e quindi hanno un immediato riconoscimento. Ciò che io posso manipolare è qualche cosa che risponde ad alcune regole. Bicchiere, bottiglia, martello, cacciavite e così via sono riconosciuti attraverso il flusso ventrale. Quindi il primo aspetto da considerare è che l'informazione subisce una sorta di biforcazione. La prima che cerca di localizzare, la seconda che cerca di rispondere a che cos'è. Allora, oggi abbiamo parlato di memoria prima e uno degli aspetti fondamentali della memoria quando parliamo di cervello e spazio è quello di considerare il fatto che esistono due sistemi, uno che è allocentrico e uno che è egocentrico. Egocentrico rispetto a me voi siete lì, ho questa bottiglia e qua e così via. Allocentrico, ecco, i due bicchieri sono alla sinistra per me di questa bottiglia oppure la prima fila è anteriore alla seconda fila e così via. Questi sono due sistemi abbastanza diversi. Il sistema allocentrico fa capo ad una struttura che è estremamente importante per la spazialità e che si chiama ipocampo. Prende questo nome perché ha una forma molto vagamente simile a un cavalluccio marino, molto vagamente. La corteccia invece varietale è coinvolta nel sistema egocentrico e altre strutture, anche lo striato, rispondono a queste caratteristiche. La scrittura, per esempio, implica un riconoscimento attraverso questo sistema della corteccia varietale. Allora, la mia consapevolezza spaziale dipende in gran parte dalla corteccia parietale posteriore. Siamo sempre a livello della corteccia parietale e i suoi neuroni, perché esistono delle tecniche ormai che possono individuare ogni singolo neurone e stabilire quando questo neurone viene attivato o spara, come si dice in gergo, rispondono a degli stimoli visivi. Quindi cambio stimolo visivo e altri neuroni risponderanno a questo stimolo visivo. Però alcune di queste risposte sono legate al fatto che in qualche modo io ricordo dove è comparso uno stimolo visivo. Per esempio, se io vedo quella luce, si spegne, spengono le luci della sala e si riaccendono, io in genere ho un posizionamento spaziale che mi porta a ricercare quello stimolo in quel punto esatto. Quindi in qualche modo io mi formo una mappa spaziale della realtà. Questa mappa spaziale può essere di maggiore o minore durata, in alcuni casi può avere una lunghissima durata, per esempio da qui non saprei tornare a casa ovviamente, non saprei forse nemmeno arrivare al porto, ma da casa mia all'università per esempio io posso farlo a piedi ed ho una mappa consolidata. Se invece devo andare in un'altra parte di Roma e là sono problemi perché io non ho una memoria spaziale consolidata. Però queste memorie spaziali consentono di aggirare, aggirarci noi e gli animali attraverso una serie di percorsi. Prendiamo questo, è un animale, questo grosso modo rispondono esattamente come rispondiamo noi. risponde ad esempio a questo percorso attraverso quei blocchi che voi vedete, praticando sempre magari lo stesso percorso e memorizzandolo perché naturalmente viene rinforzato da poniamo del cibo che trova alla fine del percorso. Allora, un punto che molti si sono chiesti è se l'ippocampo che la struttura al centro della nostra spazialità abbia una mappa spaziale. Cioè noi riconosciamo perché riconosciamo? Perché vediamo qualche cosa? Oppure dopo mettiamo cinque volte che sono stato in questa sala, io ho una tale memoria spaziale che anche se si spengono le luci grosso modo potrei arrivare in fondo attraverso il corridoio. Oppure potrei scendere questo gradino ed andare a destra e così via. Beato me. Beato me? Non lo faccio. Però negli ambienti notti lo facciamo, nella nostra casa possiamo girare anche durante la notte, insomma, senza accendere le luci. Non dico perché cosa. Ecco. Allora, l'ippocampo è una struttura estremamente complessa. La vedete i neuroni dell'ippocampo raffigurati attraverso un metodo che è stato messo a punto all'inizio del secolo scorso da Gorgi, il metodo di Gorgi, e qua lo vedete ecco con i suoi strati, con la sua corteccia ipocampale e così via. Si presta molto bene per stabilire come un animale o un essere umano reagisce a indizi spaziali. Ad esempio, ecco, in questo caso qua abbiamo un animale. L'animale deve percorrere questo labirinto che vedete lassù, si chiama il labirinto di Holton. È molto comune nei centri di ricerca che lavorano con i rati, con i topi e così via. Cosa deve fare l'animale per essere premiato? Ad esempio, ogni volta cambiare braccio nel suo percorso. Parte dal braccio in basso e troverà il rinforzo nel primo braccio a sinistra, nel secondo braccio a sinistra, nel terzo braccio a sinistra e così via. Se sbaglia non viene rinforzato. L'animale impara benissimo ad andare in senso orario, ma potrebbe imparare ad andare in senso anti-orario, oppure con un po' di addestramento a fare un braccio sì, un braccio no, un braccio sì, un braccio no e così via. Quindi ha una sua mappa spaziale che gli deriva in genere da punti di riferimento. Sotto, la figura sotto, un topolino o un ratto nuota in quella piscina, non vede la piattaforma che è sommersa nella piscina. La piscina non è fatta di acqua ma di un liquido palescente che non gli consentono di vedere dov'è la piscina. Dopo un po' di tentativi, nuotando, trova la base e si mette lì e sta avviato e contento perché ha trovato un posto franco, diciamo. Se gli si dà un punto di riferimento, ad esempio quella sedia, oppure l'osservatore stesso che sta fisso in quel posto, l'animale fa un accoppiamento tra punto di riferimento e punto della piscina, della piattaforma, ed è in grado immediatamente di trovare il posto dove deve andare. Quindi molti degli esperimenti che sono stati fatti e che implicano il ruolo di strutture corticali dell'ippocampo e di strutture sottocorticali, i gangli della base si chiamano, in qualche modo hanno consentito di mappare le capacità spaziali dell'animale. Più di recente invece sono state emesse a punto due tipi di cellule che sono localizzate nell'ippocampo, quindi andiamo in questo caso di un riduzionismo quasi vulcane, insomma. Due tipi di cellule, le persone che ci hanno lavorato hanno avuto il premio Nobel per i loro studi e queste si chiamano play cell, cellule neuroni del posto e neuroni di una griglia. Che cosa servono queste play cell e grid cell? Servono a due cose diverse. Le play cell dicono all'animale che è in un ambiente nuovo e in un posto particolare di quell'ambiente. Quindi qualsiasi ambiente nuovo in cui metto l'animale, l'animale fa un posizionamento. Ma noi immaginiamo nello stesso modo. Se io mi metto qui, mi rendo conto che l'ambiente è questo. Se mi mettono lì, è un altro ambiente. Le play cell si attivano soltanto per dirmi se è in un ambiente nuovo e in un posto particolare. Se invece devo fare un percorso, si attivano altri tipi di neuroni che sono le grid cell, le cellule a griglia, lo chiamiamole così in italiano. In questo modo io sono in grado di mappare un percorso. Perché sulla superficie dell'ippocampo, sulla corteccia intolinale in realtà che è legata all'ippocampo, si attiva una rete di cellule che segnano il percorso che io ho fatto. Quindi c'è un combaccio perfetto tra le cellule e il percorso che sto facendo. Se l'animale fa quel percorso che vedete giù, si attivano una serie di cellule di grid cell che specificano le caratteristiche del suo posizionamento nello spazio. Quindi, dall'altro cellule che mi dicono questo è nuovo e sei qua, come noi possiamo essere, entro in un'altra casa qua del luogo e dico questa è una casa, è nuova e sono qua. Se invece la casa è abbastanza vicina, io mappo il percorso attraverso il sistema delle cellule griglia, delle grid cell. Quindi, in sostanza, dicendolo in maniera molto semplice, mi scuso per la semplicità, in realtà il nostro hippocampo tiene conto di fatti legati alla novità spaziale e fatti legati al percorso. Le grid cell funzionano, le space cell funzionano in moltissime posizioni. Ecco, le grid cell ci danno delle mappe mentali dello spazio, sono legate all'ippocampo e alla sua corteccia, la cosiddetta corteccia interrinale e sono nient'altro che dei neuroni, quali reagiscono attraverso la formazione di una rete neurale. Questa rete forma una mappa, eccola qui, forma una mappa, sempre nella corteccia interrinale, in cui si vedono dei neuroni che si attivano e questi neuroni formano una sorta di griglia che mi dà il posizionamento spaziale. in ognuno di noi, non si fanno degli esperimenti come sono stati fatti ovviamente con i ratti, ma esistono delle tecniche complesse o di elettroencefalografia computerizzata o particolari tipi di brain imaging, di visualizzazione del cervello, io posso vedere che il muovermi attraverso uno spazio attiva una cascata di neuroni che in qualche modo, eccolo qua, in qualche modo mi dà la mappa spaziale. Questa è una carta topografica, è divisa in quadranti come tutte le carte topografiche perché mi facilitano in qualche modo la rappresentazione bidimensionale dello spazio. Io vedo per esempio questa mappa di Londra e in qualche modo posso stabilire dov'è tale posto e dov'è il tal'altro posto. Con le grid cells, ugualmente, se io mi muovo nello spazio, formo una mappa tridimensionale e i cui suddivise in triangoli, insomma in triangoli di posizionamento, i vertici mi dicono i nodi delle differenze spaziali di un particolare percorso. In altre parole, quello che volevo dire, forse l'ho detto in maniera confusa, tra una mappa topografica ed una mappa spaziale nella nostra corteccia antorinale, nel nostro epocampo, non ci sono molte differenze perché le due mappe in qualche modo tendono a concidere. Queste cellule si attivano anche nelle situazioni di buio. Quindi se io mi muovesse al buio in un ambiente che non ha particolari trabocchetti, insomma, in cui io potevo trovare il fondo di questa stanza, ecco le mie grid cells si attiverebbero e percorso dopo percorso in qualche modo costruirebbero una mappa spaziale di quel particolare ambiente, quella mappa spaziale memorizzata. Io so benissimo, non so, ricostruire la posizione delle stanze della mia casa mentalmente, ma anche se mi bendano grosso modo su andare, insomma, a destra, a sinistra, andare nella camera da letto, andare nel soggiorno, andare nella cucina e via dicendo, perché ho una mappa spaziale che in qualche modo è legata alla memorizzazione di un'esperienza che si è ripetuta nel tempo e che attiva delle cellule.